... Applausi per la Vastese, ma dall'Aragona il Teramo esce ancora vittorioso. Un Teramo cinico e spietato. La battuta di Boito, palla in area, cento rame, ha sul sinistro la palla del vantaggio da due passi. In questo momento sono i Teramani ad attaccare. De Gidio trova una palla splendida per Ciccio Esposito che la mette in mezzo. Arriva Cutilli dalle retrovie che al minuto numero 14 sblocca il match. E Cutilli che ha la palla. Dal limite c'è De Gidio, altra bella imbucata per Van Zandt che trova il raddoppio. Il Teramo è una sentenza quando attacca. Al ventinovesimo ancora una palla orchestrata da De Gidio. Pressione che la batterà Ferraioli. Così è. E arriva il 3 a 0. Ferraioli indovina la traiettoria. Punizione rasoterra. E qui possiamo dire con mezz'ora d'anticipo. Game, set and match. I numeri spingono i giocatori a fare sempre meglio. Traversa. Punizione palo colpito da Dos Santos va stese Teramo e Storia. 0-3 il finale. Albi.